I buciantini che non è beccantini, sembrava. Qui siamo al fornaio, il fornaio Corbelli. Il riferimento da anni, prima all'uno e un quarto, adesso alle due e mezza, della ristorazione a Reggio Emilia di notte. Bravissimi, super prodotti, prezzi non bassi, ottimo servizio, di grande enfasi della signora, e il resto, meglio non commentare, viene da dire. Peccato, perché insomma... Amen.